Si mette in moto la solidarietà pesarese a sostegno del popolo ucraino. La Caritas diocesana organizza infatti una raccolta fondi per sostenere la popolazione attaccata dall'invasione bellica russa. Una raccolta fondi con tanto di coordinate bancarie pubblicate sulla stessa pagina Facebook della Caritas diocesana di Pesaro. Caritas che precisa che al momento non può però raccogliere coperte, indumenti o farmaci non potendo garantirne la modalità di consegna in territorio ucraino. Raccolta di indumenti e calzature che invece può essere effettuata in favore dei profughi ucraini che verranno in Italia. Ad organizzarla sono i venditori ambulanti del mercato di Pesaro che domani 1 marzo dalle 9 alle 12 raccoglieranno questi materiali donati dalla cittadinanza proprio durante il mercato settimanale del martedì. Da mercoledì 2 marzo invece il comune di Pesaro e la protezione civile attiveranno un numero di telefono e una mail SOS Ucraina alle quali i cittadini potranno rivolgersi. L'obiettivo è coordinare gli aiuti, le donazioni e le offerte di alloggio che stanno giungendo da tutta la città sin dal primo giorno di guerra. Solidarietà anche dalle 9 farmacie comunali di Pesaro e da quella di Gabicce Mare dove fino all'8 marzo si potrà partecipare alla campagna benefica che prevede che per ogni prodotto acquistato dai cittadini in favore della popolazione ucraina come bende, garze, cerotti o sciroppi per la tosse o tachipirina uno identico verrà donato anche dalle farmacie comunali. Tutti i beni raccolti verranno poi consegnati in Ucraina grazie alla collaborazione delle associazioni di volontariato e della protezione civile. Intanto Pesaro ha fatto sentire il suo sostegno alla comunità ucraina nella partecipata fiaccolata tenutasi venerdì in piazzale Lazzarini. Pesaro sta dalla parte della democrazia, della libertà e della pace del popolo ucraino. Ha condannato con questa bella partecipazione nonostante il maltempo nettamente l'invasione russa così come si sta facendo in tantissime città italiane. Ciò che è accaduto inaudito che un paese violi la sovranità di un altro stato invada quel paese in maniera unilaterale, in maniera del tutto ingiustificata ed è un attacco alla democrazia e alla libertà, non soltanto al popolo ucraino. Quindi chiediamo da parte del governo, da parte dell'Europa e dell'Occidente grande unità, grande nettezza nelle sanzioni che devono essere le più pesanti possibili e al tempo stesso chiediamo a Putin il cessate il fuoco perché il popolo ucraino sta morendo sotto le bombe, arrivano notizie di tanti morti, di tanti feriti e quindi parallelamente alla nettezza sulle sanzioni dobbiamo continuamente chiedere il cessate il fuoco e l'interruzione dell'invasione. Sono giorni davvero drammatici, nessuno di noi pensava di poterli vivere nel cuore dell'Europa ma dobbiamo reagire e credo che l'Europa reagirà molto unita anche perché è a rischio non soltanto la libertà ucraina, è a rischio il concetto di democrazia, la sovranità degli stati, il concetto di libertà in Europa e in tutto il mondo. Il ringraziamento del sindaco di Pesaro Matteo Ricci che ha organizzato questa fiaccolata e io sinceramente sono colpita da parole che lui ha detto perché ha detto le robe giuste che bisogna combattere a un nemico insieme a tutti i fronti e prendere le sanzioni più grosse perché l'Europa è in pericolo, ancora dobbiamo capire di che cosa abbiamo bisogno perché la situazione è veramente grave e non capiamo di che cosa abbiamo bisogno, però noi ci stiamo mobilizzando, speriamo che non sono solo le parole, ci sono anche i fatti.